Con l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri vogliamo parlare della situazione Covid in Abruzzo. Noi abbiamo una percentuale di positivi che è leggermente superiore alla media nazionale. Vorrei anche ricordare che tutti i nostri corregionali hanno già avuto più del 50%, hanno già avuto il Covid, per cui c'è già una parte immunologica in atto. Sono anche molti coloro che in questo periodo stanno effettuando la quarta dose e quindi vuol dire che c'è quell'attenzione, quella prevenzione. Abbiamo un lieve aumento dei posti letto in terapia medica, non ci sono picchi particolari, non ci sono varianti dove hanno creato particolare focolai. Continuiamo a tenere l'attenzione riguardo ai pazienti nell'RSA, i pazienti fragili e quindi la mia solita raccomandazione è quella di prevenire specialmente nella fragilità e quindi indirizzare questi vaccini prevalentemente a queste categorie. Insomma c'è l'invito alla quarta dose e il vaccino aggiornato? Sì, abbiamo un vaccino aggiornato e ho visto che c'è stato anche un aumento di coloro che hanno aderito a questa campagna di vaccinazione sulla quarta dose. Senz'altro abbiamo messo a disposizione su tutto il nostro territorio dei centri hub e saremo anche pronti ad intervenire dove ci sono ancora delle difficoltà nei piccoli comuni, però abbiamo continuato a portare avanti un protocollo di convenzione sia con i medici di medicina generale che con i pediatri. Assessore, per concludere, che inverno sarà secondo gli esperti? Fare previsioni non è semplice ma forse non serve a niente. Quello che serve invece è portare avanti una campagna di prevenzione vaccinandosi anche per chi lo vuole, per quanto riguarda l'influenza e soprattutto portare avanti quelle norme igieniche e comportamentali che restano alla base di tutti i nostri comportamenti.